Salone delle feste gremito per il confronto tra i candidati a sindaco di Borgamozzano trasmesso in diretta da Noi TV e twittato dallo schermo.it. Sul palco i tre contendenti Riccardo Ungaretti della lista Borgo e Movimento, Patrizio Andreuccetti della lista Missione Domani ed Elena Ghiloni della lista Andare Oltre. Si sono misurati su domande di vario tipo, dalle questioni relative alla viabilità al nuovo ospedale della Valle del Serchio, ma gli animi si sono scaldati in particolare sul progetto dell'impianto a biomasse dell'Alce, anche se poi in definitiva tutti e tre candidati si sono detti contrari alla realizzazione di questi impianti. Poi le domande del pubblico, gettonatissima quella sui rapporti tra il comune e Borgo Eventi, la società che gestisce la festa di Halloween e il teatro di Verzura. Qualcuno, per essere sicuro che venisse fatta, l'ha ripetuta su molti dei biglietti inseriti nell'urna, provocando momenti di imbarazzo e risate in sala. Poi i candidati hanno risposto a domande sulla valorizzazione dei beni architettonici e naturali, ma anche sulla loro attività lavorativa. Alla fine applausi per tutti e tre al momento dell'appello al voto finale. Il confronto è visibile anche sul sito internet di Noi TV.